E ragazzi io sono Ferinichi E io sono Stef, e questo giochiamo al nascondino per telefono, ovvero hide.io Credo che solo io e Ferin non conoscevamo l'app, dato che ha più di 10 milioni download Io la conoscevo Credo che i consolini lo conoscono già e che ci giochino pure In ogni caso, lo proviamo quest'oggi e soprattutto per la prima volta collaboriamo in un nascondino Perché non ho tratto il modo di giocare insieme Peccato E quindi saremo un'unica squadra che si nasconde da tutti i player Ok Sei pronta? Vai Allora, il tempo è appena completato, quindi dovremo poter partire a breve Io l'ho provato un po' ed è davvero carino fare comunque Cioè guarda tipo questa mappa, non la vorresti giocare in altri giochi e nasconderti qua? Eh sì, no, no, sono carine Allora, spiaggia Si sta preparando all'inizio Chi? È piccolina sta mappa Eh no, l'italiano di sto gioco è inesistente Lo so, per quello, sto scherzando, Stef L'avevo notato Inesistente, ok mi devo nascondere Cosa sono esattamente come oggetto però? Sì, questa valigetta blu È una valigetta, dici? È cooler box, non lo so Puoi cambiare oggetto? Oppure è un oggetto per impostare? Ah, beh vabbè però 20 monete e io ne ho 40 totali E allora mettiti in un posto dove ha senso che ci sia No, togliti, è il mio posto Vabbè ma quello si vede lontano a un miglio con salvagente a farloco Cioè piatto, gli altri sopporti Già Cioè ma che senso ha? Guarda Che botto mi dai? Dai un bel 5 Beh è un po' No, stai fermo, mi inviti a muoverti Se non li hai ritrovato subito Non lo so, mi lascia un po' titubante È un oggetto un po' strano No, perché ti ripeto Il salvagente è piatto Mentre gli altri sono belli gonfi Cioè sei com'è Non è un bell'oggetto Così come il tuo non è un bell'oggetto Nella schiaccia Abbiamo la musichetta di gioco Pipipipi Basta Che noia Che sei No puoi lasciare la musichetta Basta non canti No, no, no O canto o non si lascia Ci sono 14 che si nascondono 13 ormai E 5 che cercano 2 minuti Anzi 3 minuti Cavolo non ce la farò mai Non ce la farei mai Ma ci sei anche tu Quindi se perdi perdi anche tu Ma io non ci sono invece Qua ci ho scritto Stef Non ci sono di tutto a fare Gabellito è stato trovato Mi dispiace per Gabellito Anche a me Mi dispiace tantissimo per Gabellito Siamo soltanto in 12 Rimasti nascosti Però sta funzionando Il mio nascondiglio di fatto 11 Cioè sono morti C'è da dire che per ora Noi si sono neanche amicinati 10 Quadra etichetta Gabellito Gabellito è una Chissà cosa vuol dire Ma sembra una cosa bella Sì quadra etichetta Secondo me che ne ha tratto 4 Capito Tipo la quadra kill Di League of Legends Però la chiama quadra etichetta Quindi sembra il gioco 9 rimasti E qua secondo me Vinciamo con solo noi vivi Proprio subito Spam A far vedere chi è Ma manca ancora tanto tempo Però Steph Già Ma proprio tanto Tanto Anche perché i 5 Quelli che cercano Possono schiattare solo Come cosa classica E Gmod Se picchi troppi oggetti Sbagliati E quindi schiatti in quel modo Altrimenti no E siamo rimasti in 7 Mancano 2 minuti Eh vabbè È tantissimo però 6 Ma ma sto gioco hanno troppo tempo I cercatori 5 Ok però è morto uno che cerca Ok Ok uno in meno Uno in meno Uno in meno Adesso ci cercano in 4 Però siamo 5 totali Non puoi bloccare il tuo oggetto E girarti come gli altri giochi Lo so È nasce in mezzo Ha un po' di me Certo che non può nasce in mezzo Però vabbè Non diciamolo Però pazienza dai Lo so anche io vorrei guardare in giro Vedere dove sono Non ce l'ho visto Se stanno arrivando Se stanno arrivando Se è il caso di spostarti 90 secondi Però è tu perdi contro di me Nascondino Perché non pensi a queste cose Sono perfettamente Perfetto per la mappa Nessuno è passato Niente che va vicino Hai ragione In realtà questo non lo sappiamo Io avevo un'era qua a fianco Che mi puliva anche La valigetta Oh è pulita È sporca La pulisco un po' E neanche lo sappiamo Perché non possiamo guardarci intorno Aspetta Quello è un poliziotto Un tiro a dentro l'acqua poi Ora i giocatori I poliziotti Non perdono più vita Se picchiano No Quindi possono spammare ovunque Però vabbè Gli ultimi 30 secondi Quindi c'è 40 E due c'è due vicini Samurai E giuramimi Arrivano Steph No 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 Però hanno trovato il salvagente finto Ah no Quello lì sta scappando Uh bello L'ha distratto Bello 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 25 secondi Dai ci siamo Prima partita Win Con solo 3 vivi Sono il re del nascondino Ok Meno male che l'ammette Meno male che l'ammette Ogni tanto è onesta con se stessa E ammette che Steph È fortissima Perché ci sono anche io Questa partita Solo per quello Ma non hai fatto nulla Ci sono virtualmente Penta etichetta Samurai Ne ha fatto 5 Penta etichetta Siamo rimasti in 2 5 secondi 2 secondi Te l'ho trovata 2 secondi Alla fine Io ho tradotto Che era solo perché Non sono mai passati là Appena sono passati È andato dritto Non neanche dubitato Cioè ma neanche per idea Ha 2 secondi Steph è stato Giochiamo Ok Quartiere Allora Che bel gioco Ok Sono un poliziatto Ok Ci sta 17 che Che problemi hanno le nuve Non lo so Ok Dicevo 17 che si nascondono E siamo in 6 a cercare Ok Con 200 secondi Con 200 secondi Quindi 3 minuti e 20 secondi Il problema è che noi non conosciamo bene le mappe Quindi non sappiamo bene Ma tu infatti la Io sto esplorando adesso Capito Io posso guardare Stai memorizzando Steph No Però sto guardando Però dai È 10 volte più grande Della mia spiaggettina Che a me E la piccola piccola E hanno barato Per trovarti 2 secondi Eh brava Brava WALAC Cos'era? Eh? Cos'era un WALAC Un X-Ray Esatto Ti ho detto esatto No non hai capito Io non cito mai nei giochi Quindi non li conosco Mio caro Steph A differenza tua No no Mai citati in un videogioco Però i nomi si sanno Ma io non li so Buongiorno Allora prima di tutto Devi prendere sempre quelli Che sono un po' Più scemini degli altri Come te Come questo Che si muovono Vedi? Ah no Però era bello Era un bel cartellone plausibile Ok E questo è andato Poi Beh un cartello che si muove È 3D Nuova tecnologia Sono già rimasti in 12 Quindi gli scemini iniziali Ce sono parecchi Questo secondo te è normale Sì Ho perso un quadro Ma stava fluttuando Eh lo so Anche a me è confuso Ok Soltanto 9 da trovare Almeno uno lo vorrei trovare Per favore Ragazzi Sì ci sta Potrebbe la scatola Ma tutti non se la L'altro è lui Bravo Grande sei un campione Per di tu il cuore Al posto nostro Esatto Io spero che si muovano loro Perché si spaventano Capito? Beh secondo me no Troppo sangue freddo Esatto Eh c'è nessuno Ha tutto quel sangue freddo Ok La cosa era storta Quindi poteva Ma non lo so Neh è troppo perfetta Guardala Ok Vero Anche a me è impossibile Se a me è stato un campione Ma Steph non abbiamo ancora trovato nessuno Lo so Però ne mancano 7 Quadra etichetta Quadra etichetta È breato Bravo Bravo tu Non avremo male le nostre quadra etichette Steph Sto imparando A muoverti? Sì Ok Così vedi Allora sto saltellando Sembro un po' più forte Faccio più paura Allora ne rimangono 5 Sembri uno che sa Usare i comandi di sto gioco Ma secondo te c'è qualcuno Nascosto anche da auto Non lo so Non so cosa puoi essere Capito? Esatto Quella difficoltà Esatto Eh vabbè Però così è facile Che era? Era un cartellone che saltava Eh vabbè Così è facile Perché si spaventano e scappano Ho capito? Con noi no No Steph Lascia a me Steph Eh oh Devi tentare Qualcosa la devo pur colpire anche io Assolutamente sì Ok Questa è molto storta Questa scatola Questa? Sì Schiaccia Schiaccia Dai Dai non poteva essere un pezzo dell'ambiente Invece lo era E le cose sono storte di proposito Evidentemente Ok due secondi Cioè 45 secondi E non prendo più danno Tocca tutto Uno l'ho appena trovato Ma si è mossa? No L'ho one shot T6 Ah ok Quindi vai proprio sereno Vai così Colpisci tutto E se lo trovi lo trovi Proprio a cazzotti Per strada Arrabbiatissimo Sì ma noi non abbiamo trovato nulla Non è vero Non è proprio per niente vero E' scarso Steph No Fere c'entri anche tu Lo trovano a due secondi dalla fine No prima mi hai detto che non c'entravo Quindi adesso lo scarsone sei solo tu Steph E' vero Colpa mia Così impari Perdiamo con uno? Un eroe? Sì Ci fa vedere dov'era? No Ero curioso Sarebbe stato carino vedere dove si era nascosto Per aver vinto no? Sì Bello 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 Mi piace Cerco mi nascondo Non è molto grande però adesso vedrai che mi fa nascondere Quando non è molto grande Ecco No penso che ti faccio fare un round Poi che sei? Un lampadina sei Che è? Green medicine Sei una medicina Ok Mettiti in un posto dove ha senso che ci sia tipo in quello scaffale Eh ma non è proprio una scaffale da medicina Oh puoi saltare? Sì Raga Fatemi passare Devi andare da qualche parte però Mi hai incastrato Ok Ecco questi Questi sono più scaffali da medicina no? Ma dove sei? Sto fluttuando Ok Dove sei? Sei nel mobile giusto? Oh lì ci sta Lì ci sta Fermo Fermo il mobile così è bello Questo è bello Questo approvo che secondo me è un bellissimo nascondiglio Così comunque possiamo avere un po' osservare Sì dai non è male Non è male Ok Allora Questo è bello eh Sei stato furbo Steph Poi ce n'era qualcuno nel tavolo che stava saltellando Quindi se rimangono a saltellare distongono l'attenzione Nessuno pensa che tu possa essere La cosa importante secondo me non è tanto che i 17 durino molto Ma che i 5 e 1 o 2 schiattino Quello è importante Se 1 o 2 schiattano diventa difficile Inizio a essere Brutto da dire ma è così Diciamo un po' Aspetta Steph C'era uno eh Quindi non posso girarmi No non puoi Però se io facessi così Occhio che rischi solo di muoverti Però dai così si vede bene Eh esatto Allora Almeno ce la vogliamo un po' di più Cioè vediamo se qualcuno arriva Se rischiamo E visto che abbiamo uno Chris qua insieme a noi nella stanza Sì Non è un gran che è il suo Il suo è più facile da trovare Infatti ma li trovano lui Diranno basta Non ce ne sparano due nella stanza Eh È impossibile È impossibile Ok Allora ne sono già rimasti i 71 E i poliziotti sono ancora 5 Non è mai schiattato niente uno Però fra poco passiamo a due minuti Quindi comunque un po' di tempo è passato Era più visibile l'altro Steph Non è colpa tua Era molto più visibile l'altro E arrivano Non so come è stato possibile Steph No perché l'altro era proprio chiaro Come il sole tu eri nascosto bene Sei solo una persona sfortunata Non ti preoccupare ok Va bene Era bello il tuo nascondimento È un gioco carino Se volete scaricatelo Vediamo se mettevi il link in iscrizione Ma se cercate nel playstore AID.io lo trovate È andata bene Però dai magari siete più forti Lasciate tanti like Se qui sotto compreranno video Iscrivetevi al canale E cliccate il campanello Se non è ancora un'altra fatta Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 a tutti